ok ok allora armi sono arrivato adesso in portogallo dopo quattro giorni di viaggio vi sto consegnando spontaneamente alle autorità portoghesi sicuramente corona deve pagare la sua pena come tutti quelli che commettono reati ma non è possibile che in italia la pena non sia mai congrua al suo reato se ammazzi qualcuno e ti giudicano non capace di intendere e volere te la cavi con poco e niente se invece calpesti poteri forti facendo reati minori ti fanno il culo ci vuole proporzione nella pena vediamo di fare qualcosa per chi non ha pianto bollici in sue iscrizioni ricercate ok Grazie a tutti.